Il Museo dell'Identità dell'Alta Garfagnano Olimpio Cammelli di Gorfigliano ha aderito a Piccoli Musei Narranti, organizzata dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei. Abbiamo aderito con entusiasmo perché è una straordinaria occasione per promuovere su scala nazionale il nostro territorio e la nostra storia. Così ha commentato Iuri Brugiat, presidente dell'Associazione Culturale Paese Vecchio di Gorfigliano. Chiusi ma non fermi, i piccoli musei si raccontano sul web. È lo slogan che oggi unisce tanti piccoli musei in Italia che in questo ormai lungo periodo di lockdown non si sono mai fermati. Anche il Museo Cammelli ha realizzato dei videoracconti di circa 10 minuti dove attraverso la lettura di alcuni testi, la narrazione di eventi, la visione di fotografie filmati di repertorio di un vasto archivio, far conoscere la propria storia. La storia di un sogno divenuto realtà, una storia speciale, unica, quella del recupero della Chiesa Vecchia di Gorfigliano e che vi parla la seguita dagli albori, ovvero da lontano 1983. Un gruppo di volontari, che possiamo definire eroi, ha lavorato con passione, tenace ed amore. Tutte le domeniche, per 28 anni senza mai fermarsi, sono saliti sul colle detto di casa, trasformando quello che era un rudere prossimo al crollo nella magnifica realtà oggi visibile a tutti. E tutti i video vengono trasmessi da ogni singolo museo sui propri canali social e vengono poi condivisi anche sul canale YouTube dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei e resteranno inoltre visibili anche in futuro.